I Dothraki non si fermano a lungo in un posto. Vedi i suoi lunghi capelli? Quando un Dothraki viene sconfitto in battaglia, la sua vaccina viene recisa. È uno degli uomini che esistono. Voglio essere la regina. Anche io gli dono una regina in cambio mi drogo. Vogliamo la vaccina entrambi, ma i cavalli se l'hanno portata via. Ricordi i miei 16 anni? Desideravo solo spaccare i crani e spaccare la ragazza. Intanto nominarti puttana del re. Non merito tale onore. Ma non voglio onorarti, voglio scoprarti. A quando le nozze? Presto. Quando? Presto. A quando le nozze? Non ci vorrà molto. A quando le nozze? Quando i loro presagi favoriranno la puntualità. Aspetto da 17 anni le nozze. Crustin sposa le sue figlie che a loro volta gli danno altre figlie e che a loro volta gli danno altre figlie e che a loro volta gli danno altre figlie e così via di seguito. Da quello che ho sentito alle brandici sono felici. Puoi sapere dove sono andate? A nord, al sud. Ha infranto i suoi giuramenti, tradito i suoi menti, giuranto i tradimenti. Se un uomo poserà la mano su una delle mie moglie, gli canta uomini soli. Dio delle città e dell'immensità. Serve del legname. Thomas, il legname porterà. Serve più legname. Solo qui, su Italia 1. Presto a te conquisterete il trono di Troni. E governa l'impero. Mi piace. Sergio, ora io non so come si dica grazie in lingua d'Otraki. È l'unica parola che conosci. È l'unica parola che conosci. L'acqua giù. Il suo posto era accanto a me. Beh, oggi devo proprio ricordarmi di fare le fettine panate. Fettine panate? Dai, amore, ti prego, fai le fettine panate. Tu le fai da impazzire di bontà. Madre, voglio fino! E va bene, non ho proprio altre scelte. Cosa mangiano? Dai vita. Il vulcano ha distrutto tutto. Si tratta di suicidio. Stannis Baration ha inviato dei Stannis Baration di Stannis Baration del Continent. Stannis Baration. Il re Stannis Baration non è Stannis Baration. Se verranno accettate, concederò ai Lannister la pace. Altrimenti... Concederò ai Lannister la pace. Sono qui per la festa! La festa della droga! Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungs-Überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz. Cosa dice? Ha detto sì. A quando le nozze? Aaaaaaah! 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 Mi sto sciogliendo! Mi sto sciogliendo! Mi sto sciogliendo! Mi sto sciogliendo! Nei miei sogni uccido quell'uomo ogni notte. Tutti a pensare che la fine del mondo sia una cosa giusta e invece il vino è il male! Bisogna consentire la fine del vino! Questo Robert lo sa e lo so anch'io. Hanno rubato i nostri granai. Hanno incendiato i nostri fiumi. Hanno stuprato le nostre case! E' stato i gingari! Dove andate? Ho della carne per il banchetto. Il banchetto è finito. Non direi proprio. Ti ho detto che è finito. Banchetto. Tutto l'anno. Levati di mezzo. Questi non sono i droidi che state cercando. Gira questo carretto e levati da questo banchetto. Perpetuare il male per garantire il bene. Si, confesso. La responsabilità diretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984. Thomas! Che combina qua? Si tratta di suicidio.